Ecco! Ecco! Buona! Perdillo tu questo frutto! No, basta! Pierre, stiamo calmi! Si si si! IPL si si si! Si si si! IPL si si si! Com'è stai? Io sto bene, Pierre, era un pezzo che non la vedevamo! Scusa, perché stai così con questa mano a girare? No, siccome a Titicaca del Metello... Si! Che è la discoteca dove tu lavori! Non ci sai soldi per comprare laser! E allora? Allora il mio titolare mi ha messo sul tetto tutta la notte a far così con la torcia! Per chiamare la gente! E l'altra notte Conti! Oh, che è successo? L'altra notte è arrivata un'acquata... Un temporale! E' arrivata anche un fulmine! Eh! L'ho preso pieno Conti! Si, l'hai preso tu! Meno male c'è mio il parafulmine se no! Si vede ma ciuffio! Si si si! Non incominciamo eh! Senti, come va la tua discoteca? Complimenti per il look, mi sembra una rondine stasera! Mi diverto! Mi diverto! Si si si! Mi diverto! Si si si! Mi diverto! Si si si! Senti, volevo sapere, dico... Allora, piuttosto, abbiamo detto il Chitticaca di Orbetello la tua discoteca, questa grande discoteca, il Chitticaca come va? Sta un po' fermino! Come va? Come va? Per una pasticchina sono tutte citate! Ecco! Questo non è un buon esempio assolutamente! Allora, che hai fatto? Allora, il Chitticaca del Betello la gente si diverte da morire! Perché la gente si diverte da morire! Sono sempre tutti a ballare! Sempre a far casino, non ci siede mai nessuno! Nessuno si siede? Volevo dire che tutti a ballare! Ottima musica! Noi! Ci ha ignorato di mani! Un chissà più una lira! No ma no! Una lira! Senti, mi hanno detto che sei arrivato con una... Ci vede il mazzupio? Si! Ha un po' male la schiena! Mi hanno detto che sei arrivato con una nuovissima fiammante auto! Mi sono comprato l'automobile che c'ha tutto! ABS, CGL, Cisle, Will... C'è Finlega, c'ha tutto e c'ha anche l'autoradio a scompaccia! Che vuol dire l'autoradio? Non c'è senso come l'ho messa sparita! Me l'hanno fatta fuori subito! Si si si! L'ha rubata! Si si si! L'ha rubata! L'ha rubata! L'ha rubata! L'ha rubata! Si si si! Ora però ci ho messo la mia sorella come antipurto! La sorella come... Ma dai! E un ciao vicino! No no di notte sembra un Doberman! Ora va bene che tua sorella è bruttina ma questo mi sembra troppo! Conti è brutto non ci puoi vedere! Eh ma dai! E che è? Gli scienziati la stanno studiando! Si! Come il nuovo metodo anticoncezionale! Per la vogliono portare all'America! Si si! Vabbè! Vabbè! Carlo Conti non lo so questo bimbo a chi lo so! Si si si! Si vede il manciupio? Si vede! Si vede! Guarda c'è un limite pieno! Si adesso! Vabbè! 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 Si devono essere sbagliati con qualcun altro! Con un altro personaggio! Si si si! Sente! Allora chiudiamo! Tu! Pier! Che fai? Vabbè! Vabbè! Allora! Senti! Siamo seri! Perché tu sei qui soprattutto per lanciare un messaggio! Si si si! Ai giovani! Il messaggio di un giovane PR! Si! Ai giovani che frequentano le discoteche! Si! Voglio lanciare un messaggio ai giovani! Fate l'amore spesso! Più volte che potete! Ma fate come me! Portatevi sempre dietro il preservativo! Che fai le vanno! Ma fate le vanno! Chi si! Chi si! Chi si! Chi si!